Il modulo repertorio telematico permette di ottemperare all'obbligo della conservazione dei documenti originali cartacei a seguito di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, della richiesta di planimetria e delle volture e successioni. Disponendo del modulo repertorio telematico è possibile inserire direttamente all'interno di una pratica un numero illimitato di repertori DOCFA o PREGEO che rimarranno collegati alla pratica stessa. Attraverso la pagina repertorio telematico sarà possibile visualizzare l'elenco delle pratiche presenti in archivio, suddivise fra quelle presentate al catasto urbano tramite DOCFA, quelle presentate al catasto terreni tramite PREGEO, il repertorio planimetrie, volture e successioni. Per inserire un nuovo record nel repertorio telematico è possibile semplicemente trascinare la ricevuta di registrazione all'interno della pagina tramite drag and drop. Sarà altresì possibile utilizzare il pulsante Appendi della barra degli strumenti o dal pop-up menu, oppure la funzione Importa dati da ricevuta di registrazione per DOCFA e volture. Importa dati da testato di approvazione per PREGEO, oppure Importa dati da file di richiesta XML e Importa dati da comunicazione di avvenuto ricevimento per successioni. Per cancellare un record dal repertorio telematico è possibile utilizzare il pulsante Elimina della barra degli strumenti o del pop-up menu. Attenzione! In tal modo verranno eliminati anche tutti i documenti digitali memorizzati nella cartella corrispondente al numero di repertorio. Ogni singolo repertorio viene identificato dai seguenti dati. Numero di repertorio viene assegnato automaticamente dal software sulla base dell'ultimo numero assegnato e della data di trasmissione. Per modificare la numerazione è possibile cliccare sul relativo campo per attribuire direttamente un numero al singolo repertorio. Incrementare o decrementare l'ultimo numero assegnato tramite le funzioni file, tabelle, progressivi. Affirma di il professionista che ha firmato la pratica, i cui dati sono memorizzati nell'elenco soggetti, sezione utenti, pagina dati professionista. Il programma propone in automatico l'utente correntemente collegato. In testazione ditta possono essere inseriti tutti i comproprietari e o firmatari della pratica, ciascuno con la propria qualità. Per compilare questa sezione è possibile utilizzare i comandi associati al tasto destro del mouse, appendi inserisci da archivio soggetti e appendi nuovo soggetto. Nel caso di importazione dati da ricevuta a testato, questa sezione verrà compilato automaticamente, solo nel caso di denuncia di nuova costruzione. Tipo atto, è possibile specificare variazione o nuova costruzione per DOCFA, oppure tipo frazionamento, tipo mappale, tipo frazionamento e mappale o tipo particellare per Pregeo. Compravendita e successione per Volture e Prima dichiarazione, dichiarazione modificativa, integrativa, sostitutiva, aggiuntiva per successioni. Questo dato viene automaticamente desunto in caso di importazione dati da ricevuta a testato. Data di trasmissione. Deve essere specificata la data in cui è stata trasmessa telematicamente la pratica. L'anno specificato verrà utilizzato per la composizione del numero di repertorio. Questo dato viene automaticamente desunto in caso di importazione dati da ricevuta a testato, se è presente la ricevuta di trasmissione, all'interno della medesima cartella. Fai l'identificato normalmente dal prefisso RDT. Causale. Può essere specificata la causale, normalmente solo per le pratiche DOCFA, selezionandola dal menu a tendina o digitandola direttamente. Il contenuto del menu a tendina è personalizzabile tramite la funzione File, Tabelle, Repertorio telematico, Tabella causali. Questo dato viene automaticamente desunto in caso di importazione dati da ricevuta a testato. Date protocollazione di approvazione. Questi dati vengono automaticamente desunti in caso di importazione dati da ricevuta a testato. Codice di riscontro. Questo dato viene automaticamente desunto in caso di importazione dati da ricevuta a testato. Dati catastali. In questa sezione è possibile specificare tutti i dati dell'immobile in oggetto, compresi fogli, numeri e subalterni. Per inserire manualmente i dati è possibile utilizzare i comandi associati al tasto destro del mouse. Tutti i dati catastali vengono automaticamente ad esunti in caso di importazione dati da ricevuta a testato. Protocollo digitale. Una delle grandi potenzialità di Nova Studio Tecnico è quella di poter gestire la protocollazione digitale dei documenti, ossia di poter memorizzare per ciascun protocollo uno o più file di qualsiasi tipo in maniera del tutto trasparente. È addirittura possibile scannerizzare direttamente dall'interno del programma un documento cartaceo per renderlo digitale. Per inserire uno o più file all'interno dell'area di protocollazione è possibile utilizzare i pulsanti. Apri i risorse del computer, quindi trascinare i file o le cartelle desiderate tramite il drag and drop. Acquisizione documento da scanner. Quindi dopo aver selezionato l'origine, seguire le istruzioni del software di scannerizzazione. È possibile indicare la compressione dell'immagine acquisita tramite l'apposito controllo. I documenti possono essere automaticamente copiati all'interno del protocollo digitale in caso di importazione dati da ricevuto a testato. Documenti da allegare. Questa sezione deve essere compilata esclusivamente al fine della stampa della copertina. È possibile prelevare i documenti tipici da una tabella personalizzabile tramite la funzione file, tabelle, repertorio telematico, tabella documenti. Note ed altri dati. Questa sezione contiene le eventuali note al repertorio e la data di stampa della dichiarazione per la committenza. La funzione importazione dati da ricevuto a testato consente di ricavare tutti i dati necessari per la registrazione di un repertorio direttamente dal file pdf prodotta dall'agenzia del territorio. Tali dati sono contenuti per docfa all'interno della ricevuta di registrazione e della ricevuta di trasmissione, per pregeo all'interno dell'attestato di approvazione e della ricevuta di trasmissione. È quindi indispensabile ai fini di una corretta importazione che i due file risiedano nella medesima cartella. Nota bene, i files predetti sono normalmente contenuti nella cartella di installazione del software firma e verifica all'interno della sottocartella verificati. La cartella predefinita di ricerca è impostabile tramite la funzione strumenti, impostazioni generali, altre preferenze, campo, cartella predefinita, ricevute, pdf, docfa e pregeo. Essi possono essere comunque scaricati da sister accedendo alla propria area personale, aprendo i dettagli di una pratica approvata e salvando ciascuna ricevuta tramite il comando salva oggetto con nome. Attenzione, aprendo il file direttamente all'interno del browser, il nome assegnato non corrisponderà con quanto precedentemente detto. Oltre ai dati di repertorio, è possibile trasferire all'interno del protocollo digitale le ricevute e tutti gli altri documenti necessari al completamento della pratica. Sarà cura dell'utente selezionare quali documenti importare. Il software di default seleziona le quattro ricevute dell'agenzia del territorio e propone tutti gli altri documenti contenuti nella cartella. È quindi fortemente consigliato ai soli fini del protocollo digitale suddividere i lavori da importare in sottocartelle. La funzione importazione dati da richiesta di planimetria consente di ricavare tutti i dati necessari per la registrazione di un repertorio direttamente dal file XML prodotto da SISTER prima dell'applicazione della firma digitale. Oltre ai dati di repertorio, è possibile trasferire all'interno del protocollo digitale la richiesta stessa e tutte le planimetrie scaricate. Sarà cura dell'utente selezionare quali documenti importare. Il software di default seleziona tutti i documenti contenuti nella cartella. Rinumera progressivi repertorio. Questa funzione, disponibile nel pop-up menu associato al tasto destro del mouse o nel menu operazioni, permette la rinumerazione dell'intero repertorio in ordine cronologico. La funzione sovrascrive i progressivi attualmente memorizzati e non è reversibile. Si consiglia pertanto di effettuare un backup completo dei dati. Stampa repertorio. La funzione è disponibile all'interno del menu stampe, oppure tramite il relativo pulsante della barra degli strumenti, consente di stampare il repertorio completo comprensivo dei seguenti dati. Numero di repertorio. Data di trasmissione. Ditta. Tipo atto. Data approvazione. Protocollo approvazione. Dati catastali.